Non male, tranne per un ingrediente, alga viscerale. Una pianta mangiata dagli annegati, niente di meglio per ritardare la necrosi. Non so chi l'abbia scoperto, ma diventa più potente se è parzialmente digerita dagli annegati. Sì, ho fatto la stessa faccia quando l'ho scoperto. Ti consiglio di indossare dei guanti. Un tempo vivevo per strada. Mi cacciai in un brutto affare. I lupi mi salvarono la pelle. Mi allevarono e nutrirono. E di solito il lavoro paga, quindi per ora resto qui. Sì, dall'inizio del morbo. Ha spazzato via mezza città prima che buttassero fuori i poveri e noi con loro. Tutte quelle ricchezze, chiuse lì, a prendere polvere. Mi piange il cuore. Il denaro gira ancora nel Kejistan, ma sono i banditi di Gea Kula a muoverlo. È denaro sporco quello. Dipende da chi lo chiede. Per uno straniero come te? Siamo mercenari. Pagamento anticipato. Vedi, è dura fare affari da quando il morbo ha mandato Caldeum a gambe all'aria. Per uno straniero. Non posso portare altro. Per uno straniero. Sì. Grazie a tutti. Grazie. Non sembra un gran che, ma aiuterà a salvare l'arto di qualcuno. Quanto all'odore... vai alle pozze di pece. Non salverà i tuoi vestiti, ma forse gli odori si annulleranno a vicenda. Grazie.